e la posa di vasistasana come potete vedere rappresenta questo radicamento questo aspetto terreno una mano poggiata al suolo insieme al piede mentre braccio e gamba opposta che si elevano verso l'alto simboleggiando appunto questa ascesa continua ad estenderti ad aprirti e poi da lì ripiega la gamba sia da arda shandrasana che da super soldier ti lasci richiamare la mano destra sull'osso sacro ricrei i piccoli vortici e ti lasci ruotare verso la tua sinistra stavolta sposta il piede sinistro al lato plana col ginocchio al suolo col dorso del piede mano sinistra che spinge contro la coscia ti lascia aprire estendere energizza la gamba e così ci addentriamo nel cuore della di questa sequenza con il tallone sinistro scivoli in avanti e non ha importanza quanto andiamo giù la cosa importante che mentre lo fai mantieni quella sensazione di contenimento sposta peso sull'ischio sinistro e questa è proprio l'apertura che ci serve per vasistasana energizza la gamba dietro va bene il dorso va bene l'avampiede l'avampiede ti dà un po più di radicamento e ti permette di stabilizzare meglio ti lasci ruotare